Allora il saldo e stralcio, se proprio dobbiamo dare una definizione, in che cosa consiste? Consiste nel trovare un accordo con tutti i creditori prima che il bene, l'immobile, parliamo di saldo e stralcio nell'immobiliare ma logicamente noi lo facciamo anche nel mobiliare, ma siccome questo è l'immobiliare, il nostro oggetto parliamo di questo. Quindi prima che il bene venga venduto all'asta, ovviamente quando siamo nella veste di custodi giudiziari non possiamo partecipare attivamente, anzi anche perché non veniamo pagati e come sai tu che ci lavori il saldo e stralcio è un'operazione complicata che richiede molto impegno. Però ormai abbiamo anche il dovere, noi custodi, sin dal primo accesso, di consigliare all'esecutato che c'è questa possibilità. Ovviamente un saldo e stralcio immobiliare si può fare, se hai per esempio l'amico, il parente che è in grado di acquistare l'immobile, bene. Altrimenti adesso per fortuna esistono tanti professionisti, come anche penso il tuo caso, che possono acquistando l'immobile o comunque trovando i fondi per acquistare l'immobile, concordare, accordarsi con i creditori, estinguere i debiti del pignorato e estinguere i debiti che magari vendendo, andando diciamo in asta, e arrivando alla fine magari alla vendita dopo due, tre, quattro tentativi, il debitore magari non arriverebbe, questo ormai si sa, all'esdebitazione, cioè a liberarsi dei debiti. Però, Thomas, quello che io dico sempre, a parte che anche noi avvocati ormai siamo in grado di indirizzare, perché c'è un luogo comune, il luogo comune di chi fa questi saldi e stralci, che poi di solito chi se ne occupa, si occupa solo dei casi più facili, quando c'è il profitto, pochi creditori, l'agenzia delle entrate, insomma va valutata bene. Ti stavo dicendo, noi avvocati siamo, anche se è vero, il famoso luogo comune, che di solito non compriamo l'immobile, non facciamo come voi professionisti, però ormai abbiamo anche i nostri professionisti di riferimento, quindi quando ci rendiamo conto che effettivamente la soluzione è il saldo e stralcio, quindi l'accordo per vendere l'immobile, siamo noi stessi che ci mettiamo in contatto con voi, scegliamo i migliori, i più affidabili e diciamo ragazzi, occupatevi di questo saldo e stralcio. Noi abbiamo avvocati, abbiamo amministratori che ci segnalano le operazioni, quindi è logico. È convenienza di tutti. Come? È convenienza di tutti. Assolutamente. Quando il saldo e stralcio è la giusta soluzione? Perché vedi, Thomas, dipende poi anche dal debitore che abbiamo di fronte. Ci sono debitori che possono, per esempio, preferire altre alternative. Anche quando, per esempio, ci accorgiamo che i pignoramenti sono pignoramenti fatti non a regola d'arte. Noi avvocati, al mio studio è capitato, possiamo consigliare di andare fino alla fine o di fare un'opposizione, eccetera, e facciamo comunque recuperare. Cioè, il bene non glielo facciamo perdere al cliente. Ecco, quindi, è vero, il saldo e stralcio è una soluzione che noi stessi ormai anche dobbiamo promuovere. Oltretutto ci guadagniamo, quando non siamo custodi, per carità, ma da avvocati comunque ci guadagniamo. Quindi è anche nella nostra convenienza. Però è una tra le tante alternative. Grazie a tutti.